Oggi ha evitato davvero per poco un incidente diplomatico a San Siro, ma va tutto bene. E allora, guardate, si sta incartando. Mentre lui non dà così, dai. Un po' in difficoltà, eh? Questi momenti, grazie, sei veramente un direttore magnanimo con i tuoi dipendenti, guarda. Grazie veramente, guarda, grazie, grazie. Ma non è che si è camminata. Ti dobbiamo mettere una telecamera nel tuo ufficio, mentre tu ti prepari per la diretta. Poi ridiamo noi, poi ridiamo noi, va bene, va bene. Ti sei incartato? Che stai combinando? Ti accredi? Certo, certo. Ce l'ho fatto più. Mi stavo preparando la diretta, che tu, in maniera... Non voglio dire come tu, sei entrato prima che fosse pronto tutto. Ma dobbiamo fare la televisione verità o la televisione finta? Butta, butta, lancialo, lancialo. Ne compri un altro domani. Un pochino di decenza anche, voglio dire. Scusami? No, buttalo che poi domani ne compri un altro, tranquillo, ti accredi. Ma un assistente, il suo assistente solito non c'è. Sono contro il consumismo io. Ha ragione, ha ragione. Vabbè, mi devi raccontare un po' la giornata degli azzurri e soprattutto mi devi raccontare la vigilia di Nonna Ruma, perché ci sono state anche scritte sul marciapiede, in strada. Cosa sta succedendo a Milano? Guarda, sì, esattamente nel ponticello che è di fronte alle finestre dello Sheraton. Questo lo conosciamo, lo Sheraton di Milano, per il calciomercato. In verità, ormai è quasi sempre eletto dalla UEFA per le rivali di Champions delle italiane. Questa volta è l'albergo dell'Italia e la Curva Sud Milano ha preparato una sorpresa, se vogliamo chiamarla così, con un vezzeggiativo. Esattamente nel ponticello di fronte alle finestre dell'albergo, uno striscione di cui probabilmente state facendo vedere la foto, che in verità è stato prontamente rimosso. Non pettiniamo le bambole. E poi dalle autorità. Però è rimasto su a sufficienza, perché potesse essere scattata una foto, che ovviamente poi ha fatto il giro d'Italia e di tutti i social e di tutti i media. E questa è stata l'accoglienza. È probabilmente un'accoglienza che non si limiterà soltanto a quello. È difficile che venga limitato. Insomma, domani il tifo, sappiamo che è tutto esaurito il 50% della capienza di San Siro, i 37.500 biglietti a disposizione. Sappiamo che una porzione consistente, probabilmente, di tifosi, proprio quelli che andranno a occupare il secondo anello blu, sarà appartenente alla fede milanista, sarebbe auspicabile. E' ovvio, quando dei grandi amori finiscono e finiscono male, come è finito quello tra Donnarumma e il Milan, diciamo che, non dico che è normale, ma è conseguente che ci siano sempre delle scorie non piacevoli. Ma allo stesso tempo, però, sarebbe auspicabile che Italia-Spagna non venga influenzata, voglio dire, da questo. Perché alla fine è Italia-Spagna, non è Milan-Paris Saint-Germain, e il ritorno della Nazionale davanti ai propri tifosi, con i propri tifosi. È vero che ha già giocato un paio di partite, però questo è il grande abbraccio domani. Ricordiamoci all'indomani della finale dell'Europeo, come si dovette organizzare un pullman alla Chetichella per poter festeggiare per le strade di Roma. Domani è il grande abbraccio. San Siro è sempre stato un monile fortunato per la Nazionale. Non perdiamo dal 1925, anche se, certo, l'Italia-Svezia dal 2017 non la viviamo certo come un pareggio. L'abbiamo detto ieri, Tancredi. Però San Siro è il luogo del grande abbraccio. Bravo, l'abbiamo detto ieri sera, e anche gli ospiti non ci credono, la verità. Sono antani che l'Italia non perde a San Siro. Ovviamente quell'Italia-Svezia 0-0 è peggio di una sconfitta, però a livello statistico è un pareggio. Tancredi, mi aggiungi qualcosa sulla formazione velocemente, poi vado sul mercato e ti libero, perché oggi hai fatto gli straordinari, quindi non vorrei una letterina dal tuo avvocato, quindi ti libererei tranquillamente. No, 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 siamo qua assolutamente per la causa. Guarda, il 4-3-3 di Mancini e la visione di Mancini. Per la causa. Ma la perde? Non importa, in contumacia, Alfredo, che dobbiamo fare? No, sono numeri questi. Il 4-3-3 e la visione di Mancini. Guarda, non ci permettono di lavorare, purtroppo, Michele. Torniamo dopo, purtroppo, va così, che dobbiamo fare? Chi è questo fenomeno? Guarda, non lo so, è l'albergo, non so come mai. Sei sul marciapiede, non sei fuori. No, no, vai un attimo a pieno, per favore. Chi è questo fenomeno? Certo, certo che sono fuori. Chi è questo fenomeno? Spiegami. Ma poi voglio dire... Guardi, come si chiama lei? Buonasera. Come si chiama lei? Buonasera. Niente, non hai il coraggio di dirci. Ma chi sei? Ma lo togli davanti alla telecamera questo. No, non c'hanno il coraggio di dirci, non ci permettono di lavorare, purtroppo, anche se siamo sul suolo pubblico, fuori dall'albergo. Perché questa è l'Italia? Ma chi è? È andato via, ha cambiato idea. Ma perché? Ma chi è? Sicurezza, sì, sì. Ma sicurezza di cosa? Siamo sul suolo pubblico. Chi è lo deve avere l'autorizzazione? Ma cosa vuole sto fenomeno? Ma non parli neanche italiano, ma farlo stare zitto, per favore. Non lo so, non lo so. Ma cosa vuoi? Sei sul suolo pubblico e parli, stiamo facendo pure pubblicità all'hotel. Ma chi sei? L'autorizzazione di chi è? Ma di se è autorizzato lui. Ma chi sei? Ma mandala a casa. Ma di se è autorizzato lui. Mandala a casa. Vai a passeggiare, vai, vai. Che autorizzazione vuole? Ma chi è? Ma fammelo vedere. Fai vedere questo fenomeno, per favore. Tu sei bello, ma togliti un attimo. Fai vedere chi è. Gli impiegati zelanti sono sempre... Devi stare là, chiudere il calcello. Fagli chiudere il calcello quando sarà troppo tardi. Fai lavorare alla gente, per favore. Diglielo. Ma chi è quello che si è messo davanti, scusa? Guarda, tu mi chiedevi di mancini del 433 della visione. Non importa che manchino gli attaccanti. Questa è una visione. Niente. Se vuoi andare... Amico di Sicuritalia, vieni qua. Amico di Sicuritalia. Non vuoi parlare. Sì, ma sai, tu non sei un... Capisci che non sei della pubblica sicurezza. Capisci? Ti rendi conto? Questo è luogo pubblico. Purtroppo... Ma chiama il direttore dello Sheraton e spiegagli come funziona questo... Questo non è solo pubblico. Questa davanti al cancello dell'albergo. Questo è solo pubblico. Bene, Michele, stiamo dando spettacolo. Ma parla in inglese perché forse non capisce l'italiano in questo momento. Ovviamente... No, va bene. Questa non lo so. Però forse è vero. Non sarà né la prima, né l'ultima volta che insomma impiegati della sicurezza pensano di essere pubblica sicurezza. Questa è pazza. Continua a parlare, vai, vai, continuo, vai. Fai il tuo lavoro, grazie. Spiegaci un po' tutta la giornata. Bene, dicevamo... Stai là, vai. Sì, non mi sentivo in studio. Stavamo dicendo, concludiamo. Il 4-3 di Mancini non arretra e non ritrae anche se mancano gli attaccanti, anche se bisogna scartare sul falso nuove di arresto. Non è mai stato soltanto il piano B di Mancini. Tante volte ha ricorso al falso nuove anche quando la situazione di una partita non riusciva a sbloccarsi proprio contro la Spagna in semifinale. C'è anche l'alternativa, però, possibile, di Pellegrini-pendolo tra Attaccao e Centrocampo. L'ha fatto spesso Mancini in certe trasferte rognose di qualificazione europea, se non ricordo male, Finlandia-Italia. E in fondo c'è una sorta di debito d'onore con Pellegrini che si è perso l'occasione di una vita un minuto prima che cominciasse l'Europeo, lasciando poi il posto per infortunio a Castrovilli. Ovvio, non si gioca una semifinale pagando un debito. È il risultato, è la causa quella che conta. Però, mancando l'attaccante, potrebbe essere quella l'opzione. Bernardeschi, però, è un pretoriano di Mancini e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto. Quindi, diciamo che diamo ancora un favore a Bernardeschi, falso nueve, rispetto a Pellegrini davanti. Dall'altro lato, la Spagna, Luizio Enrique, ha un mare di problemi perché mancano sia i nueve che i falso nueve. Morata, Gerard Moreno e Dani Olmo. Manca soprattutto Pedri in mezzo al campo, oltre a Marcosiorente. Pedri con Buschets ci aveva fatto impazzire a Wembley. Lì aveva mostrato un gioco degno dei predecessori Chavi e Niesta. Però Luizio Enrique è un altro che dal suo credo non abbiura mai. Domani il fattore per fare pendere la bilancia del gioco dalla nostra parte ed era stata l'unica volta che non era stato così agli europei in semifinale proprio contro la Spagna. Domani, secondo me, il fattore, oltre alle assenze, oltre all'autostima che è ovviamente gigantesca per i campioni d'Europa, secondo me sarà anche San Siro. E allora va bene le questioni Donnarumma, Milan, Peseje, ma domani gioca Italia-Spagna, giocano i campioni d'Europa e questo europeo, secondo me, dobbiamo meritarcelo anche noi come tifosi e fare il nostro. Grazie, Tancredi! Adesso sembra tutto risolto. Si è tranquillo già. Sempre agli ordini. Pensa a te. Tutto bene, Tancredi, sì? Tutto a posto, tutto a posto. Da poco mi deportano, ma figurati. Guarda, ne abbiamo viste di peggio Wembley fuori dallo stadio, ma scherzo. Ma Wembley posso capire, perché ovviamente sono i tifosi che erano un po' alticci. In questo caso non lo posso capire. Va bene, va bene, Tancredi, ti ringrazio. Nella landa, sul suolo pubblico. No, la cosa bella è che qualcuno pensa, no, forse l'hanno pagato per fare un po' di cinema. Invece no, è venuto gratis. Lo ringraziamo. Va bene, Tancredi, ci vediamo domani da San Siro in mezzo ai tifosi. Vogliamo rivivere quelle notti magiche, quella roba straordinaria che ci hai fatto vivere durante tutto l'Europeo, soprattutto in Inghilterra. Grazie a Tancredi Palmeri, il nostro corrispondente da Milano, inviato in giro per l'Europa e per il mondo. Dobbiamo parlare di mercato? Alfredo, vuoi aggiungere qualcosa? Non credo sull'Italia perché dobbiamo andare sul mercato e sul tema è abbastanza caldo. No, 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 è stato estraustivo. Ha detto tutto. Va bene così. Allora, prove di mercato, vi faccio vedere il focus preparato dalla nostra redazione e poi iniziamo. Intervista all'Azzurra, prima della medaglia olimpica della nostra box femminile. Questo e tanto altro tra pochissimi. Fusto, con rassegna stampa, Ballarini con il telegiornale, fermatevi perché ovviamente dobbiamo capire cos'è successo a Tancredi. La Ballarini è preoccupata, noi siamo preoccupati, ma che è successo? Spiegani, a mezzanotte 11. È difficile spiegarlo onestamente perché per il nulla. È quello che ha ripetuto la polizia, ha detto esattamente cosa stiamo facendo qua e hanno faticato anche loro a spiegarmelo perché io gli ho detto guardate, ma voi avete idea di cosa sia il diritto di cronaca che è sancito dalla Costituzione, eccetera? Devo dirti, da un lato viene da ridere perché non so su cosa uno dovrebbe fare il sopravvissuto, ma ho notato che in quattro minuti netti tre volanti della polizia a Milano di notte, che insomma non è esattamente una città dove non succeda niente, sono accorse perché due buttafuori di un hotel, non volevano che sul suo pubblico un giornalista avessi un collegamento normale, attenzione normale, non stavamo documentando chissà che. Da un lato, se posso un attimo sporgermi su una nota meno faceta, onestamente mi ha dato il barlume di quello che è un'istituzione quando ha un approccio fascista nei confronti del giornalismo, nei confronti del riportare perché francamente è rimasto scandalizzato che ho detto sulla base di cosa, soltanto perché due buttafuori di un hotel e vi dicono guardate c'è un giornalista che ha una telecamera accesa fuori dall'hotel, quindi sul suo pubblico. Ma i polizioti che ti hanno detto? No, hanno fatto i controlli, hanno preteso rivedere il cos'è io, gli ho dato immediatamente in mano documenti, teste dal giornalista e altri, ho detto non so esattamente qual è il reato che ho commesso stando sul suo pubblico facendo un collegamento fuori da un albergo, però se voi deputate che io possa essere un pericoloso attentato all'ordine pubblico in questo momento ci mancherebbe altro. Un po' sì, noi possiamo dircelo. E poi com'è finita? Esattamente. Ma addirittura tre volanti, neanche mezzo poliziotto, tre volanti. No, aspetta, aspetta, aspetta. C'erano già due carabinieri presenti però, devo essere sincero però, e questo qui lo dico e non lo nego. I carabinieri si sono ben guardati dall'intervenire prima perché avevamo visto che non c'era nulla su cui intervenire. I carabinieri hanno visto tutta la scena quando sono entrati due buttafuori che hanno impedito la diretta. Non so se si è sentito in diretta o se la diretta è stata già interrotta. E quello che ho detto dai due buttafuori, ho detto voi siete soltanto due guardie del corpo, due guardie giurate, quello che sia. Non siete la pubblica sicurezza. Perché diciamo, ti sequestriamo un altro. Voi non avete questo diritto, questi poteri. Infatti i carabinieri non hanno mosso un dito. Le tre volanti e la polizia hanno ritenuto di intervenire tempestivamente mentre la notte a Milano produceva probabilmente altre cose. Non lo so, non lo sapremo. Però stasera qualche criminale a Milano ha avuto un pochino più di campo libero. Ma un pericoloso attentato alla giustizia come me è stato assicurato alle pubbliche. Secondo me domani ovviamente non sappiamo come sono le prassi e le procedure dell'hotel Sheraton che ovviamente ci ospita durante il calciomercato. Domani direttore o direttrice, chiunque sia direttrice, dovrà intervenire e chiedere dove ovviamente subappalta il servizio di sicurezza e chiedere ovviamente a delle spiegazioni bi licenziamento di quei due personaggi. E lo dico io. Devono andare a casa. Securiteli. Gente così è giusto che non lavori oppure cambi lavoro. Perché se questa gente della sicurezza sta avendo un danno l'hotel Sheraton e quindi siccome conosciamo le persone che lavorano e sono tutte brave persone ed è un albergo bello, giusto e organizzato e ovviamente la sicurezza non è dello Sheraton ma è subappaltata, domani mattina la direttrice dovrebbe chiamare la società di sicurezza e allontanare immediatamente quei due personaggi che o devono cambiare mestiere o è giusto che non lavorino. Perché è giusto che tutti possano avere un lavoro ma questa gente non deve lavorare. Tancredi, buonanotte. Io mi sento anche in imbarazzo a doverne parlare perché oggettivamente ci sono giornalisti che veramente rischiano il collo in certe situazioni o altre. Non certo io in una situazione del genere facendo una diretta per Sport Italia fuori all'albergo dove dorme l'Italia. Però se di fatto un tesserino con la sicurezza, con scritto sopra sicurezza, sicurita lì da l'autorizzazione. Hanno pensato che eri tu quello dello striscione a Donnarumma. Dai, ti hanno visto che stavi attaccando e secondo me avevano ragione. Ti devo salutare, c'è la balla di Valentina, ti va bene? Sta bene, Tancredi. Lo striscione di Donnarumma non sono intervenito alla polizia. Sta benissimo. E c'è stato il tempo. Mentre invece per un pericoloso giornalista che dice buonasera fuori all'albergo. Lo striscione di 20 metri, tutto ok a Donnarumma di fronte, nessuno è intervenuto, anche un poliziotto. E invece Tancredi che fa il collegamento, una volante, carabinieri e tre della polizia. Grazie Tancredi Balmeri, grazie da Roma, Alfredo Peduli.